Dunque Tornelli, gli agenti sono stati vittima di un processo mediatico secondo lei? Anche certamente in parte sì, ma questo lo dimostra in maniera incontrovertibile non soltanto la sentenza di ieri ma tutta l'istruttoria dibattimentale che ha proprio chiaramente messo in evidenza che ciò che è stato sostenuto io credo anche, non sempre in buona fede, da soggetti all'interno del circuito mediatico fosse assolutamente lontano dalla verità. Dieci anni, questa è purtroppo la morale, di travaglio, di processo di disumanizzazione nei confronti dei miei colleghi per qualcosa che assolutamente non esisteva. Questo è emerso chiaramente e la sentenza di ieri e soprattutto l'istruttoria dibattimentale tutti gli elementi raccolti in questo dibattimento forniranno chiarezza anche per la risoluzione di tutti quegli altri filoni processuali che certamente andranno rivisti perché la verità è solo una. Che cosa ha da dire a Narducci? Si penta, si penta perché credo che forse la giovanità o altro abbia commesso degli errori si penta, dica la verità su tutta la questione credo che ne abbia interesse sotto il profilo morale ma anche sotto il profilo materiale si penta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.